Mazzone ha detto non chiedetemi chi spero vinca Trascoli e Brescia, ma secondo te alla fine per chi ti ferà? Penso che lui ha trascorsi in ambidù la società, Hascol è cresciuto, ci vive la città di sua moglie, fondamentalmente può darsi che abbia qualche pendenza sul bianco nero, però che il Brescia gli rimanga simpatico, che abbia simpatia per questo. Anche Silvio è stato un suo ex giocatore, ma questo sia simpatia, lo l'ho sempre detto, io credo che ce l'ha, ce l'ha, gli è rimasto nel cuore l'esperienza di tre anni di Brescia, dove sono stati belli, quindi farà il partigiano, cercherà di dare una botta al cerchio e la botte. Anche perché credo che c'è anche grande parentela con la dirigenza dell'Hascoli. La squadra che generalmente in casa è una squadra tosta, è rugnosa, è ostica, che gioca su queste ripartenze di questo ragazzo che sta facendo molto bene, Zazza, c'è alternative, si gioca con Soncini a fianco, può giocare con Fezzesi, però ecco, questo è quello che dà profondità a quello che in questo momento qua è il giocatore che ha, è un po' il giocatore in più, che ruota intorno appunto a Fezzesi o Soncini, poi nella partita magari subentrano, giocano tutte e tre, però ecco, giocano su queste ripartenze, su questi esterni che spesso si abbassano, diventano difesa cinque, c'è altro campo che se gioca all'ovviso è più tecnico, se gioca di Donato, Russo e Morosini è più di quantità. La seconda cosa sceglie e non deve essere più che altro bisogna cercare di sapere come sono loro, ma migliorare noi, migliorare noi ancora di più davanti e con la partecipazione dei centrocampisti e gli esterni se giocheremo con la difesa a tre. Non tutte le settimane sono uguali, non pensi che questi sette giorni siano abbastanza importanti per le ambizioni del Brescia perché si va ad Ascoli, trasferta difficile, complicata, poi arriva il Livorno, in sette giorni il Brescia può far capire se è per un certo tipo di campionato attrezzato oppure se bisogna rivedere i piani. Sì, credo che è un'altra tappa importante, in questo periodo, soprattutto questa qui di Ascoli, sono tappe che sono sempre importanti e è quello che cerchiamo di fare, di dare un senso importante a questa stagione. Sono queste tre partite che ci danno un segnale ma ancora penso che ci sia ulteriormente possibilità perché non è che se fai bene queste partite, ah ora sì, ci svegliamo, cioè non bisogna indipendentemente di far bene e di continuare anche dopo perché generalmente il campionato come ho sempre detto, si decide da febbraio un po' però bisogna stare sempre lì, vicino e crescere e prendere sempre più consapevolezza. Mister, cosa ha lasciato di buono la trasferta di Verona? Un K.O. però un buon Ascoli? Sì, un buon Ascoli, peccato, sempre questi episodi sempre strani, gol al primo minuto, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, una buona prova nel senso che poteva scapparci se uno mollava scapparci anche la goleada con quella squadra così forte, però abbiamo tenuto benissimo e quindi dobbiamo partire da quello, dalle ultime gare che abbiamo fatto bene come prestazione, però ecco è ora di fare un risultato pieno che ci serve anche per darci ancora più carica. Lunedì sera arriva il Brescia, l'inizio di un ciclo importante, tre partite su quattro in casa, bisogna tornare a far punti, bisogna tornare a vincere. Sì, è chiaro che sono squadre tutte difficili, però questo è il campionato, io l'ho sempre detto anche in momenti dove stavamo meglio in classifica, che alla lunga bisogna sempre lottare, essere pronti, devo dire in questo momento ho molta fiducia e dobbiamo però un po' come dire, battere anche questi episodi negativi che ci stanno andando un po' contro, certo, però dobbiamo essere più forti anche di queste cose e quindi ci vuole una grande prestazione. La squadra di Calori è in forma? Non perde da metà ottobre e attaccanti di primo livello? Certamente, sono anche in alta classifica, però insomma siamo in casa nostra, abbiamo dimostrato anche con Padova e Verona di poter reggere il confronto con tutti e dobbiamo avere soprattutto in casa ancora più spirito combattivo e cercare finalmente di fare, non solo di fare punti, ma proprio di tornare anche a far girare un pizzico di fortuna dalla nostra parte. Dobbiamo attendere qualche cambiamento sia a livello di uomini che di modulo? Di modulo più o meno, adesso giochiamo sempre col trequartista, c'è questa possibilità che con questo modulo si può mettere o vertice alto o vertice basso, quindi abbiamo questa possibilità di cambiare anche durante la gara, come uomini qualcosina penso di sì, insomma abbiamo questo ciclo di partite, quindi cercheremo di fare alternanza. Zazza continua a segnare, questo ragazzo davvero ha numeri importanti, si attende anche un ritorno ad alti livelli di Fezzacin contro la sua ex squadra? Sì, devo dire che anche Soncin sta arrivando in forma, quindi stanno bene tutti, anche Dramme sta abbastanza bene, speriamo ci possano essere utili tutti appunto in questa alternanza, in queste gare e comunque spero gli attaccanti stanno facendo abbastanza bene, spero che tutta la squadra li possa esaltare ancora di più. Parafreddo lunedì sera però chiamiamo a raccolto ai tifosi perché bisogna essere tutti uniti, bisogna tornare a macinare punti. Sì, soprattutto per la squadra che come vedete c'è sempre il massimo impegno, la voglia di fare, soprattutto per i ragazzi per dare una mano e soprattutto per l'ascoli per tornare a fare punti e a mettere Fiene in cascina per migliorare sempre la classifica, io spero che ci sia l'apporto dei tifosi durante tutta la gara perché i ragazzi ne hanno bisogno. È arrivato il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni del match tra Ascoli e Brescia, valido per la diciannovesima giornata del campionato DB, in programma domani sera alle ore 21 allo stadio del Duca, con la direzione di gara del 35enne Luigi Nasca della sezione di Bari. Alessandro Calori, che nel 2006 ha allenato anche la San Benedettese, deve rinunciare agli squalificati Salamon e Bui e agli infortunati Ben Ali, Martina Rini, Russo e Saba. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Arcari in porta, in difesa Antonio Caracciolo, De Maio e Stovini, a centrocampo Zambelli, Budel, Lasic e D'Aprelà, sulla tre quarti Scaglia e Corbia, in avanti il capitano Andrea Caracciolo. Massimo Silva tutta la rosa a disposizione, eccezione fatta per la Ciacatonin. Confermato il 3-4-1-2 con guarna tra i pali, in difesa Ricci, Pecca e Risi e Faiska, a centrocampo Scalise, Didonato, in ballottaggio con Russo, Loviso e Pasqualini, sulla tre quarti Fossati, in attacco inamovibile e Zazza, Soncin favorito su Fezzagin. Analizziamo anche le quote Eurobet, che sono molto equilibrate. La vittoria dell'Ascoli è quotata a 2,75, il pareggio a 2,90, il successo del Brescia 2,75.